Colpiscono un numero ristretto di persone, ma provocano tanta sofferenza e lunghi viaggi della speranza alla ricerca di una cura che possa eliminarli. Sono i tumori rari, difficili da diagnosticare, ancora più difficili da curare, proprio in virtù della loro eccezionalità. A parlarne in un convegno tenutosi a Corato è stata l'Associazione Maria Ruggeri, che da anni finanzia la ricerca sui tumori rari, insieme ai diversi ricercatori impegnati in un percorso di studio sulla malattia. La ricerca sui tumori rari è un modello che può portare la scoperta del singolo ricercatore direttamente al clinica perché i pazienti ne hanno bisogno. Quindi ha ai ricercatori il compito di osare per scoprire nuove strade ed arrivare il più velocemente in clinica perché questi pazienti hanno bisogno, a volte non hanno risposte dopo la terapia standard. Ci si trova dinanzi ad una condizione, per esempio per alcuni sarcomi, di dire noi non sappiamo più cosa fare. I ricercatori hanno il diritto, dovere, di fare veloce, di scoprire e di arrivare con finanziamenti autonomi indipendenti il prima possibile in clinica. Il pensiero emerso è unanime. Occorre maggior interesse di associazioni e fondazioni che aiutino a finanziare il processo di ricerca e anche delle case farmaceutiche disposte ad investire poco a causa dell'eseguo numero di pazienti affetti da tali patologie. È stato fatto un piccolo passo, è stato istituito un hub, un ambulatorio dedicato ai tumori rari presso l'Istituto Oncologico e lì c'è anche un counseling, c'è anche la possibilità di rivolgersi per avere consigli, così come noi facciamo per la rete delle malattie rare in Puglia. Credo che sia arrivato il momento di costruire proprio la rete esattamente come è stata fatta, almeno me lo auguro come associazione, esattamente come è stato fatto per le malattie rare, dobbiamo fare per i tumori rari.